Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 20 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Messi in croce dai pianeti. Messi in croce dalle vostre responsabilità e da scelte sbagliate compiute a monte. A riproporle oggi sono gli astri, tutti contraddittori rispetto al vostro segno, in particolare la luna in quadratura da un lato e Marte dall'altro, che oltretutto se le danno di santa ragione. Incompresi in famiglia e insoddisfatti nelle vostre velleità, in gara non fate una gran figura e la squadra del cuore non si aggiudica il punteggio indispensabile per accedere alle finali. Unica nota piacevole una passeggiata con gli amici a fare compere oppure due chiacchiere, camminare nel verde rilassa e mette in evidenza quella vena di saggezza che aiuta a comprendere le situazioni in profondità e a comportarsi di conseguenza. Ancora per poco, avete il sole, giove e venere dalla vostra parte, fate tesoro delle loro dritte. Una donna davvero pericolosa, cattiva, malvagia che si potrebbe insinuare sulla vostra strada e determinare pericoli e problemi. Una donna che calunnia, maldicente, triste, che trama o potrebbe tramare alle vostre spalle. Liberatevi presto della tante cattiverie che circolano sul vostro conto, fate una selezione accurata tra gli amici e scegliete solo quelli veramente fidati e fedeli. Una donna rivale in amore o che procura guai per la coppia. Se vi sentite affrante e sfiduciate, coraggio, entro la fine della giornata una ventata di ottimismo vi pervaderà e potrete intravedere alcune possibili soluzioni a dei vostri problemi concreti. Non trasferite le vostre ansie sul partner, è vero che vi ama ma non potete pensare di mettergli sulle spalle ogni vostra preoccupazione o ansia. Rinviate acquisti che pensavate di fare, oggi alcuni acquisti potrebbero rivelarsi sbagliati e inappropriati. Meglio pensarci su e rinviare se possibile. Occasioni in serata per capire definitivamente alcune situazioni e decidere di conseguenza, non badate molto alla forma, ma alla sostanza. Possibili contrarietà nella tarda serata. Dovete ammettere che state commettendo alcuni errori, è solo grazie al favore di Giove e della Luna che le conseguenze dei vostri errori sono omettigate. Provate a ragionare in modo diverso e più concreto. In serata la Luna vi renderà piuttosto malinconici, cercate di distrarvi e di non ripensare a vecchie questioni e a persone. Che ormai non ci sono più. Girate pagina. Meglio darsi da fare per ottenere un lavoro, quello che state facendo è davvero troppo poco. Siete scoraggiati, vero, ma non dovete demordere nemmeno un attimo. Le delusioni in amore si superano contando sul conforto degli amici fidati e sinceri, confrontatevi con questi e vi torneranno utili e scoprirete mondi nuovi che vi aiuteranno ad affrontare i prossimi problemi. Provate a ricordare tutte le volte che avete fatto dispiacere il vostro partner, se oggi lo farà con voi non recriminate troppo, piuttosto cercate di essere comprensivi e accettate le eventuali scuse immediatamente. Venere, pianeta celebrato idealmente dal vostro segno, è nel segno amico del toro per infondervi una straordinaria voglia di allargare gli spazi mentali ed emotivi. L'effetto sarà quello di un'esplosione di solarità che si scontra con il desiderio di solitudine e di quiete che pure albergano nel vostro animo. Risolverete il tutto concedendovi momenti di socievolezza allegra e insieme di saggia riflessione. Marte a rietino alto nel cielo in quadratura si scontra con la luna bilancina, sembrerebbe una contesa tra il senso del dovere e il principio del piacere o ancora tra suoceri che non si vedano di buon occhio o interiore, tra la voglia di rilassarvi in compagnia dei vostri cari o un'emergenza di lavoro o un impegno preso nel volontariato, che non ve la sentite di disdire all'ultimo minuto. Comunque sia oggi non siete in forma, né in senso emotivo né fisico, fanno testo l'emicrania e il mal di stomaco che vi prendono ogni volta che qualcosa vi turba e non riuscite a dipanare la matassa. Amore ed Eros Partner brontolone e autoritario, di certo vi vuole bene, ma la sua possessività oggi vi va stretta. Voglia di spazio e libertà d'azione, i regimi dittatoriali vi pesano, soprattutto in amore. Non trascurate i vostri affetti, per voi spina dorsale del vostro camminare nel mondo. Venere in Toro vi annuncia che avete bisogno di esclusività con la persona amata, insieme a una quiete un po' romantica, come a voi più piace, per recuperare momenti di condivisione e di trasporto emozionale, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il giorno 27 del mese di giugno e il 7 di luglio. Lavoro e denaro? Che traffico ricevere amici e parenti a pranzo, per fare spazio e montare il tavolo gigantesco che tenete in cantina vi tocca smobilitare mezza casa. Per non parlare della spesa, il vostro carrello oggi sembra una montagna, o i vostri ospiti sono tutti orchi, oppure siete voi gli esagerati? Con gli occhi più grandi della pancia. Siete in una forma splendida e, anche se non siete in un'età giovanissima, potreste competere con chi ha meno anni di voi. Urano dal Toro e Saturno e dai pesci, benefici vi danno lo sprint per riprendere attività sportive. Benessere. Punto. Un corno. Chiamatelo pure col suo nome, malessere esistenziale, un tessuto pruriginoso fatto di dettagli piccoli e irritanti. Fino a un certo punto non vi accorgete di indossarlo, poi comincia a prudervi e a pesarvi sulle spalle. Così la trama dei vostri malanni, quando prendete coscienza di uno, scoprite di averne addosso anche molti altri. La soluzione viene dal piatto, è ora di cambiare dieta, se straviziate oggi, poi da domani a stecchetto. Denaro. Il vostro pensiero dominante è quello di assestarvi su solide basi economiche, anche se oggi non si va in ufficio. Con il lavoro in defesso e un'opera di intelligente distribuzione delle risorse a vostra disposizione, riuscirete a farcela. Urano nel segno produttivo e materialista per eccellenza del Toro, in angolazione fortunata, ve lo assicura, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade del cancro. Per lei, suocera invadente, provate a chiudere un occhio, ma proprio non ce la fate, soprattutto se anche il suocero si mette di mezzo, attizzando ulteriormente gli animi. Che coppia affiatata la loro, fosse così anche la vostra. Per lui, romantici, nostalgici, eternamente proiettati nel passato, troppo giovani per vivere di ricordi, anziché rimembrare provvedete ad agire. Colore delle emozioni, melanzana. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.